carissimi e carissime buongiorno ho annunciato in una diretta con tommy che gli iss tracker sono delle programmazioni come il treno che deve passare una certa ora poi non si sa se arriva giusto o sbagliato ecco qui ho preso alcuni video dove si vedono questi tracker della presunto passaggio della navicella spaziale che però dipendono dalla posizione perché ogni volta che questi video che dovrebbero essere dal vero si connettono col vostro computer prendono ovviamente l'orario del vostro computer e la posizione del vostro computer e questo succede anche con i device tipo i tablet eccetera qua vedete che quando cambia l'ora adesso sposta l'orario ha almeno tre tracker aperti e improvvisamente se si va a cambiare come dicevo l'orario sul computer cambia anche la posizione del tracker vediamolo dal vivo avete visto dove si è spostato in questo momento il passaggio della navicella come è possibile che sia dal vivo questo avete visto dove è finita e anche il tragitto cambia totalmente questo significa che non sono per niente dal vivo andiamo a vedere anche un altro tracker e andiamo ad aggiornarlo e hop è cambiato completamente è una cosa incredibile questo come vi volevo dire è che proprio questi tracker non sono altro che delle programmazioni non sono per niente dal vivo ma sono collegate con i vostri device o con i vostri computer questa è una cosa veramente incredibile dovrebbe essere dal vivo ma invece non lo è forse che noi possiamo comandare la iss dal nostro computer andiamo a vedere anche da un device esterno da un tablet la stessa cosa qui si è scaricato questo programma iss spotter e ovviamente sul tablet la stessa cosa succede anche avendo scaricato questa opzione se prendiamo il nostro computer ci dice dove il nostro computer il nostro tablet ci dice dove è la posizione attuale della iss nel cielo e noi andiamo a fare lo stesso giochetto adesso con qui vediamo la mappa andiamo a fare lo stesso giochetto di cambiare il nostro orario sul nostro device andiamo a cambiare l'orario andiamo a mettere in questo caso passa di due ore ok andiamo a vedere cosa succede al puntamento andiamo ad aggiornare e hop anche qua magicamente ha cambiato la posizione pertanto questo prova che gli iss tracker non sono assolutamente affidabili ma è tutta una cosa composta buona visione buon proseguimento tirate le vostre somme e buon divertimento dimenticavo la terra non è tonda è piatta un saluto a tutti quanti a tutte quanti voletevi bene state bene alla prossima